Comincio facendo i complimenti ai miei giocatori, sono molto contento per loro, avevamo bisogno come squadra, come gruppo, come società, come tifosi di fare una vittoria così, abbiamo offerto una buona prestazione, quindi oltre che per la vittoria siamo contenti per la qualità del gioco che abbiamo offerto. Il primo tempo è vero che difensivamente abbiamo subito molti punti, però c'era un ritmo e percentuali tali da giustificare questo, nel secondo, terzo e quarto, quarto abbiamo giustato molto bene la difesa, abbiamo subito rispettivamente 13, 15 e 20 punti nel quarto, frutto forse un po' di due o tre difese lasciate lì quando ormai la partita era in ghiaccio. Sono contento per i ragazzi, è chiaro che con questo ritmo, l'abbiamo detto dopo una sconfitta con Udine, lo diciamo oggi dopo aver vinto una partita, c'è purtroppo poco tempo per gioire, per guardarsi indietro, bisogna guardare avanti, abbiamo una partita in casa molto importante contro Mantova e quindi si ritorna in palestra domani per analizzare quello che abbiamo fatto di buono oggi, ma anche gli errori che abbiamo commesso e per preparare la prossima partita.